Parte la numero 8, palla che spiova, i degradi, per signorile, cerca il centro Stufi, azione da manuale della Bosca San Bernardo, 6 a 5 Di tutto altro avviso, lottando fino ai vantaggi nel primo set, adesso partono a servire proprio le ragazze ospiti Spirito riceve su Unguriano, poi, subito Stufi Alexa Gray, di nuovo al servizio Spirito, e poi Stufi A servizio la numero 7, palla che spiove, Zannoni non la riceve bene, allora Stufi punisce, ma ancora una Zanetti Un bel distacco tra le due squadre, adesso se lo sta portando a casa, prova però a rispondere così, Federica Stufi Palla che spiove, ricevuta da Jasper, agrifoglio per Stufi, che va col tocco morbido, la palla è caduta per terra E quindi Federica Stufi